Nel nostro approfondimento di oggi ospitiamo il dottor Marco Marchetti, direttore del Dipartimento Veterinario e di Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di ATS della Montagna. Con lui parliamo della stagione dell'Alpeggio che è ormai partita in questa tarda primavera. Benvenuto dottor Marchetti. Quali sono intanto i numeri che documentano la realtà dell'Alpeggio in provincia di Sondrio? Sono numeri sicuramente importanti. La Valtellina e la Val Chiavenna si caratterizzano storicamente da sempre per un corposo numero di alpeggi. In questo momento abbiamo monticato, negli anni 2017 e negli anni 2018, circa 730-740 alpeggi comprensivi in Valtellina e Val Chiavenna. Di questi 730-740 alpeggi circa 150 sono alpeggi per i quali si caseifica. Cosa vuol dire? Che negli altri alpeggi le mandrie vengono portate ai monti per pascolare, per fare questo periodo d'alpeggio senza produzione latero caseare. Quindi sono o animali in asciutta o equidi, cavalli o pecore, ovini, ovicaprini che comunque non vengono monti. Nei 150 alpeggi invece provvisti di un laboratorio di caseificazione, viene caseificato il latte e vengono prodotti formaggi. I numeri di queste produzioni sono numeri molto importanti, si parla di 50.000, oltre 50.000 litri di latte lavorato, si parla quindi di un decimo in peso di questi 50.000 litri, quindi di qualcosa come 500 tonnellate di prodotti lattiero caseari vari e con una produzione che può essere calcolata, stimata in circa oltre 50.000 forme delle varie pezzature e delle varie tipologie. In questi alpeggi viene caricato un numero consistente di bovini pari a circa 17.000 bovini, di cui quasi 16.000 sono assolutamente originali della Valtellina e della Varchiavena, cioè sono autotoni. Il restante piccolo numero, inferiore alle migliaia, sono bovini provenienti da altre province, spesso limitrofe, bergamone, ecco. Non solo bovini, noi associamo l'immagine dell'alpeggio al bestiame bovino, ma in realtà ci sono anche altre tipologie, come dicevo. Anche altre specie sono importantissime, infatti parliamo di qualcosa come 27.500, 27.800 ovicaprini. Qui i rapporti invece nella numerosità della popolazione monticata sono leggermente differenti rispetto a quelli bovini, tanto che circa 7.000 capi ovicaprini sono provenienti da fuori provincia, quasi essenzialmente, se non completamente, dalla provincia di Bergamo e sono greggi di consistenza importante, quelle che arrivano da fuori provincia. Parliamo quindi di greggi di 800-900, 1.000 capi ogni singolo greggio. Questi sono i numeri fondamentali. Bastano questi numeri che lei ha fornito per dimostrare come la zootecnia di montagna e nello specifico l'alpeggio nella stagione estiva sia un elemento importante del contesto socio-economico del nostro allevamento. Certo, sono numeri importanti che caratterizzano la nostra provincia e le nostre due valle. Teniamo quindi presente che praticamente il periodo dell'alpeggio dura circa un quarto dell'intero anno solare, perché parliamo di non meno di 80 giorni, per certi alpeggi quelli più favoriti dalla situazione geografica e climatica, anche per oltre 90 giorni. Questo vuol dire un quarto, come ho detto, dell'anno solare, in cui quindi gli animali non sono in fondo valle, non vengono gestiti in fondo valle, non vengono gestite le deiezioni, quindi con cimaia, gestione di questi aspetti. Le produzioni latero caseare vengono fatte in montagna e non in fondo valle. Sono produzioni latero caseare molto particolari perché cambia completamente l'alimentazione e la gestione del patrimonio e lo stato in cui l'animale da una stabilazione passa allo stato libero e quindi sono numeri che fanno capire l'importanza che riveste l'alpeggio per la nostra provincia. Come si presenta la stagione dell'alpeggio quest'anno alla luce di due criticità, di due fattori? Uno, la situazione di Gallivaggio e di tutta la Valle Spluga, dunque, e questo andamento meteorologico molto variabile con frequenti piogge. L'andamento climatico che inizialmente poteva essere ritenuto positivo perché prima della monticazione, prima della stagione, prima dell'inizio è sicuramente fondamentale che piova, questo sia per il pascolo, per il prato, per l'erba, che per le sorgenti, per le pozze, perché non dimentichiamoci che gli animali in alpeggio devono sì mangiare, devono alimentarsi, ma devono fondamentalmente anche bere. Gli alpeggi ricchi di acqua sono alpeggi importanti, gli alpeggi dove c'è un problema di risorse idriche sono alpeggi che creano dei problemi, quindi l'acqua è sicuramente importante, però come tutte le cose quando eccede, eccede. In questo momento sta creando sicuramente dei problemi perché troppa acqua, in questo momento in cui servirebbe, una volta che ci sono state le piogge, sole, caldo, la possibilità per l'erba di crescere, per gli animali al pascolo a questo punto di potersi alimentare senza calpestare l'erba e non utilizzarla, sarebbe auspicabile da questo punto di vista che il clima mutasse. Per quanto riguarda invece la frana, ha fatto veramente paura anche da questo punto di vista, ovviamente oltre a tutti gli altri, perché avrebbe comportato, se non ci fosse stata la possibilità che poi si è realizzata, comunque di avere l'apertura della strada e consentire quindi il passaggio di autoveicoli, di automezzi, perché oggi come oggi la muticazione fondamentalmente non avviene più col camminamento delle mandri, ma vengono caricati i satomezzi e portati in loco, avrebbe comportato per tutto l'alpeggio della parte di Montespluga, per tutta la parte della Val di Lei, l'obbligo del transito attraverso il San Bernardino piuttosto che il Maloio, lo Vivi del Passa e questo quindi ci leva con maggiori costi per i nostri operatori e poi anche con una valutazione sanitaria del bestiame, perché ovviamente le autorità svizzere non per forza di cose hanno una normativa identica alla nostra e quindi avrebbero richiesto delle attestazioni sanitarie specifiche per il transito, attestazioni sanitarie che purtroppo avrebbero avuto un onere, un utilizzo di risorse da parte del Dipartimento Veterinario per fare gli accertamenti e rilasciare tutte le certificazioni richieste e poi forse in alcuni casi avrebbero comportato dei problemi per alcune aziende che magari non rientravano in parametri previsti come cogenti dalle autorità sanitarie albetiche. Questo aspetto perlomeno è stato risolto dagli eventi. Ecco dottor Marchetti, il Dipartimento Veterinario che lei dirige, che ruolo di controllo e supporto esercita? Noi da anni, da anni, storicamente rappresentiamo la prima autorità pubblica di controllo, di vigilanza per quello che riguarda fondamentalmente due aspetti che sono gli stessi anche del Fondo Valle. Uno è la sicurezza alimentare, quindi abbiamo detto che abbiamo queste importanti produzioni di alimenti destinati al consumo umano. Bene, il Dipartimento Veterinario per primo deve garantire un'attività di controllo, intesa come ispezioni, intesa come campionamenti, intesa come accertamenti di laboratorio, intesa come valutazione delle procedure di gestione e tecnologiche di produzione degli alimenti, tale che consenta di assicurare per il consumatore che questi prodotti rispondono ai requisiti di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, quindi caratteristiche relative al quadro batteriologico, alla mancanza di patogeni e alla mancata presenza di sostanze indesiderate di tutti i tipi. L'altro aspetto sul quale noi siamo chiamati in gioco fondamentalmente, l'altro nostro tradizionale aspetto è quello di garantire la salute, il benessere e lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, sia di Fondo Valle ma anche quello che montica, quindi garantire quello che è lo stato sanitario della provincia nei confronti di un insieme di malattie del bestiame, anche zoonotiche, cioè che possono anche essere eventualmente trasmesse all'uomo nel caso di essere esseri, quindi un'indennità della provincia e un'indennità, una sicurezza degli animali che poi vengono monticati. Questi sono fondamentalmente i due aspetti di competenza del Dipartimento Veterinario. Grazie.